Si parla di tiktokers che avrebbero tradito le loro fidanzate Era fidanzato ed erano fidanzati anche tutti gli amici Sono volate accuse shock Ci hanno sequestrato i telefoni perché avevano paura che noi facessimo video Che lui ha detto apposta nessuno vi crederà Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo appuntamento di tg talk Il telegiornale più shock del web Dedicato al fantastico magico mondo di tiktok Dei tiktoker hanno tradito le loro fidanzate Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte dico tutte Le notifiche relative di cui pubblico tutti i giorni o quasi qui Sul mio canale Così di rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash Ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di tiktok Vi ricordo anche di seguirmi su instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su tiktok visto che è di questo che parliamo Dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi nuovo tgtok, nuove notizie super super shock Che vi devo raccontare dopo il grandissimo successo dei drammi di Sara Di Brisi dell'Eddy George e insomma di tutte queste cose che abbiamo già sentito in questi ultimi mesi Oggi con il video di oggi Apriamo un nuovo drama che può veramente trasformarsi in un caos più totale di sempre per sempre Nei secoli dei secoli Sì perché oggi affronteremo delle accuse veramente che hanno dell'incredibile Si parlerà di tiktoker, si parlerà di presunti tradimenti e di presunte corna Ma come vi dicevo, come vi anticipavo, questa non è l'unica storia di cui parleremo Infatti voltiamo completamente pagina e parliamo di quello che è stato il racconto Super super shock di questi ultimi giorni Che ha avuto diciamo luce, che ha avuto successo soprattutto Grazie a una pagina che si chiama We Are Zoomer Non so sicuramente lo avrete già visto sia su tiktok che qua su youtube Forse anche su instagram E riporta sostanzialmente molti e molti gossip Questa stessa versione dei fatti è stata anche riportata dagli amici di web.it E di che cosa parla? Sostanzialmente siamo di fronte ad un racconto davvero inaspettato Un racconto avvenuto in diretta da parte di due ragazze Due ragazze che testimonierebbero una cosa abbastanza forte Perché si parla di tiktoker Si parla di tiktoker nello specifico fidanzati Che avrebbero tradito le loro fidanzate con loro O forse con qualcun altro Ecco questo forse non mi è molto chiaro Ma andiamo per gradi Ad un certo punto mi pare web.it ha pubblicato uno screen nelle sue stories In cui diceva appunto Guardate questa ragazza ha scoperto di essersi vista, sentita o quello che è Con un tiktoker e ha scoperto che questo tiktoker è fidanzato Boom ragazzi La bomba è stata lanciata Ma c'è di più C'è di più perché ad un certo punto che cosa succede? Succede che WeAreZoomer come vi dicevo Pubblica e rende nota una parte della diretta Nella quale queste due ragazze Beh raccontano dei particolari Molto particolari nel dettaglio Di chi sarebbe questo tiktoker molto conosciuto Molto famoso Che avrebbe tradito la sua fidanzata E adesso Prendete un attimo di calma Una tisana, una cioccolata Oppure un tè freddo, una coca cola Quello che vi pare Prendete anche dei popcorn Perché stiamo per ascoltare Una versione dei fatti Davvero bizzarra Siamo di fronte davvero a un tradimento E soprattutto Chi è questo tiktoker Che avrebbe tradito la sua fidanzata Sentiamo quello che hanno raccontato Queste due ragazze Guardate Ci siamo vissi con questi coca E io giustamente dico a lui Ma sei fidanzato? Mi fa Guarda io Non sono fidanzato Ci hanno sequestrato i telefoni Perché avevano paura che noi facessimo video Voto Poi abbiamo capito che era fidanzato Ed erano fidanzati anche tutti gli amici Amo devi far vedere gli schi Della chat di Diciamo l'iniziale L'iniziale del tiktoker L'iniziale è la G La G è di Roma Indovinate Allora qua ci sono le chat con il suo manager O sono quella che sta fuori Lui ha scritto Venite Io faccio Fai entrare un attimo me e lei Venite in hotel Quale? Il nostro dopo ve lo dico Sta qua vicino Ma non ci aprivi la cartella a prove Scusate Ecco No Lui ha detto apposta Raga la cosa che gli fa ridere È che lui ha detto apposta Nessuno vi crederà E intanto ci sono molte persone che lo confermano Che ci sono tantissime di quelle ragazze che si sono portate a letto Ecco di fronte a queste Queste immagini Tante persone nei commenti di questa diretta Hanno avanzato delle ipotesi Perché? Perché si va subito Su questi ragazzi romani con la G? Perché appunto abbiamo sentito Queste due ragazze hanno detto Vediamo degli indizi Allora Il nome inizia con la G Ed è di Roma È un tiktoker molto famoso Fanno vedere anche mi pare forse Una foto con dei tatuaggi Si fanno scappare anche un nome Che però in questa diretta non c'è Io non l'ho tagliato Semplicemente Non c'è Perché forse qualcuno L'ha tagliato Prima di essere stato pubblicato appunto Su tiktok Fanno vedere un'immagine E questa immagine manda un po' in confusione le persone Perché come vi dicevo prima C'è chi ha detto Ah Forse questo G di Roma Tiktoker conosciuto Potrebbe essere Gianmarco Rottaro Il problema però qual è? Che sempre nei commenti Ci sono persone che dicono Beh Dall'immagine che hanno fatto vedere nella diretta Con tanto di tatuaggi Non corrispondono a quelli di Gianmarco Rottaro E onestamente posso dirvi Io non ci credo assolutamente Che possa essere anche lontanamente Gianmarco Rottaro che sta con Marta Rosito Ma di che stiamo a parlare Al che che cosa succede? Il secondo nome che viene fuori da questa live E soprattutto che viene fatto spesso e volentieri Nei commenti di questa live È quello di Gianmarco Fabrizi Gianmarco ha il nome che inizia con la G È romano E soprattutto pare che abbia quei tatuaggi Che vengono mostrati in video Ora cioè onestamente non so che pensare Questa diretta è stata pubblicata Boom In inglese si direbbe out of the blue Cioè fuori dal blu Ma nel senso dal nulla È stata pubblicata dal nulla E soprattutto perché si dà adito a queste dicerie Nel senso magari domani posso svegliarmi anch'io e dire Guardate ho visto questa persona Bla 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 La cosa che mi ha un po' fatto strano in tutto questo Non sto mettendo in dubbio ciò che dicono le ragazze Se loro hanno anche delle prove Buon per loro Però mi ha fatto un po' strano Che queste ragazze abbiano detto Sempre in diretta Ah sì ma non avevi la cartella prove? Perché loro parlano di questi telefoni Che sarebbero stati confiscati Per paura che potessero far storie e quant'altro Però hanno questo Insomma questa cartella con delle prove Ma che prove? Cioè degli screen che ci fanno capire Che sì loro hanno visto questa persona Hanno fatto vedere anche Una chat privata in diretta Che ovviamente io vi ho blerrato Per ovvi motivi Per privacy Quindi onestamente non so che pensare Penso che sia tutto un po' strano C'è chi infatti di fronte a questo video Diciamo che si è trovato a metà strada Da una parte ci sono tutte quelle persone Che dicono No non può essere vero Non ci credo assolutamente Queste ragazze sono lì A fare questa diretta Solo e soltanto per hype Dall'altra parte invece Sembra che ci siano veramente molte persone Che credano a questo presunto tradimento Forse perché non amano questo personaggio Non lo so Ma alcune persone credono a queste ragazze Io vorrei sentire anche Non so la versione dei fatti di qualcun altro Che potrebbe centrare in questa storia Per il momento il racconto finisce Cioè inizia e finisce qui Proprio perché non abbiamo un contraddittorio Quindi queste ragazze hanno raccontato La loro versione dei fatti Ma dove sta la verità? Sicuramente per avere un quadro Più generico e più complessivo Se vogliamo Dovremmo anche ascoltare L'altra parte Dell'altra faccia della medaglia Quindi non lo so ragazzi Sicuramente questo racconto Ha lasciato tutti quanti noi sotto shock Ha lasciato tutti quanti noi Davvero a bocca aperta Arrivati a questo punto però adesso Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti Di cosa ne pensate? Perché insomma era da forse molto tempo Che non parlavamo di tradimenti Eppure pare che insomma nell'aria Ci sia questa voglia di drama Che riguarda proprio relazioni finite Per mancanza di rispetto O comunque corna o quel che è Ma ragazzi fatemelo dire Forse nel video di oggi Non siamo di fronte A questo genere Di mancanza di rispetto Ma ovviamente Aspetto i vostri Di commenti Per capire un po' No? Quello che pensate Su tutto questo racconto Arrivati a questo punto Il video può finire qui Spero tanto che vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto trovate Tutti i miei social Dove potete seguirmi Ye Mark vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao